a tutti amici video molto breve ma anche molto incisivo perché quando uscite da un culto ad alto controllo mentale che siano testimoni di geova o qualsiasi altra cosa avete bisogno a tutti i costi di un guru da seguire questa è una domanda che dovreste fare a voi stessi persone che sono vissute all'interno per molti anni anche all'interno di culti ad alto controllo mentale appena uscite si trovano disorientate sicuramente ma l'essere disorientati non giustifica il passare dalla padella alla brace quindi di conseguenza ciò che vi dovete chiedere quando uscite da un culto ad alto controllo mentale è che intenzioni ho e perché ve lo dovete chiedere perché ne va della vostra salute mentale nel prosieguo perché vedete chi ha fatto parte di un culto ad alto controllo mentale purtroppo quando ne esce si ritrova ad uscire ma con una ferita aperta e le ferite quando sono aperte purtroppo sono ricettacolo di batteri di conseguenza se quella ferita non viene prima chiusa e non viene elaborato tutto ciò che c'è stato a causarla si rischia seriamente di cadere nelle mani del primo guru che passa ma questo perché perché io sto osservando che persone che sono ad esempio uscite dai testimoni di geova quindi degli ex testimoni di geova con molta facilità accadono all'interno di quelli che sono degli pseudo guru chiamiamoli così che utilizzando il testo biblico fanno dire al testo biblico quello che pensano loro magari tante volte lo fanno anche con con scarsa malizia per carità non voglio dire che ci sia malizia a tutti i costi quando queste persone fanno dire al testo biblico quello che pensano loro ma quando si dice un qualcosa riferendosi alle scritture bibliche bisognerebbe cercare di attenersi a ciò che realmente c'è scritto se si sa per esprimere una propria opinione personale riguardo a delle scritture bibliche bisognerebbe precisare che è una propria opinione personale e bisognerebbe farlo proprio in virtù del fatto che ci sono molte persone che hanno il cosiddetto nervo scoperto perché perché sono uscite da un culto ad alto controllo mentale e purtroppo sono predisposte a farsi irretire da altre teorie magari affascinanti quindi questo video è rivolto a tutte quelle persone che si trovano disorientate una volta uscite da un culto ad alto controllo mentale e rischiano di cadere in qualche altra situazione per nulla piacevole poi nel tempo allora un esempio quando voi eravate all'interno dei testimoni di geova eravate persone che sapevano leggere e anche molto bene deduco visto che il quantitativo di pubblicazioni prodotte dai testimoni di geova e lette dai testimoni di geova è un qualcosa di pazzesco no lo sappiamo quindi se eravate abituati a leggere all'interno dei testimoni di geova dovreste continuare a farlo anche adesso che siete fuori quindi il consiglio è quando ascoltate qualche teoria strampalata che non vi torna andate a verificarla ci sono molti di voi che si accostano le reazioni sono diverse partiamo da questo presupposto c'è chi esce dai testimoni di geova e smette di credere diventa ateo va bene perfetto ok sono scelte è giusto che ognuno faccia le proprie ed è anche legittimo dopo che uno ha vissuto per una vita in un certo tipo di condizione no sentirsi di dire io non voglio più contemplare dio nella mia vita è legittimo anche quello per carità poi ci sono persone che invece continuano a credere ma smettendo di credere nel dio geova dei testimoni di geova continuano a credere in dio e quindi che fanno provano ad accostarsi a dio in un altro modo in un modo che si presume e si spera essere quello reale e non quello alterato dal mondo del geovismo ecco fate attenzione a tutte quelle che sono le varie interpretazioni di questo di quell'altro di quell'altra persona di quell'altro tizio di di caio e di sempronio cioè andate a verificare ciò che vi viene detto ciò che viene detto da queste persone andate a verificarlo perché siete capaci di leggere da soli prendete un testo biblico e apritelo quando qualcuno vi dice un qualcosa siete stati per anni sottoposti al cosiddetto cibo solido a suo tempo dei testimoni di geova che non era nient'altro che una pappardella riproposta continuamente imparate dal vostro passato perché altrimenti il vostro passato all'interno di un culto ad alto controllo mentale come la torre di guardia è stato completamente inutile se poi una volta usciti vi affidate a quello che dice il primo che passa che può anche essere una brava persona può anche non avere delle intenzioni delle intenzioni nefaste come quelle di creare un altro culto o fare discepoli o fare adepti per carità ma può essere essendo una persona umana chiunque esso sia o chiunque essa sia magari sbaglia magari sbaglia magari dice una cosa che in realtà è una sua opinione personale che non è un qualcosa di suffragato dalle scritture a cui vi state accostando se vi state accostando alla scrittura biblica capite cioè quello che vi voglio dire è verificate le cose verificate non prendete il bicchiere e bevete tutto quello che arriva perché altrimenti non è cambiato niente da quando stavate nei testimoni di geova da adesso che siete usciti ragionate azionate il cervello rendetevi conto di una cosa il signore gesù disse conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi ma per conoscere la verità non ci si può affidare al primo che passa ribadisco per quanto brava persona nella sua vita poi possa essere per conoscere la verità dovete andare a verificare quello che vi viene detto non vi abbandonate alla picrizia che vi contraddistingueva quando eravate nei testimoni di geova dove avevate la rivista i paragrafetti le domandine a cui rispondere con la risposta già contenuta nel paragrafo altrimenti non cambia nulla non cambia nulla per chi decide di rimanere lontano dalla fede è un discorso ma per chi decide di approcciarsi alla fede e approcciarsi a dio cercate di farlo azionando il cervello altrimenti rischiate di passare da un contesto ad alto controllo mentale ad un altro contesto dove seguire qualcuno e tutto quello che quel qualcuno sostiene senza andare a verificare e non ha nessunissimo senso gesù disse io sono la via la verità e la vita la via la verità e la vita gesù non un essere umano gesù ok quindi se dovete decidere di accostarvi alla fede e di di seguire qualcuno nella fede a cui vi state accostando l'unico da seguire è cristo non ci sono umani da seguire cristo su questa terra non ha fondato religioni non ha fondato sette non ha fondato culti ad alto controllo mentale dio ha cristo ha fondato la chiesa e la chiesa è l'insieme di tutti i credenti in cristo fine fine verificate sempre quello che ascoltate non prendete tutto come oro colato perché per prendere tutto come oro colato vi siete ritrovati per anni all'interno di un contesto che vi ha controllato anche i minimi dettagli della vita volete ricominciare se volete ricominciare fatelo però io ve lo dico i sacrifici che avete fatto all'interno del culto dei testimoni di geova se continuate a fare la stessa cosa una volta usciti non vi sono serviti a nulla il passato serve per imparare dal passato altrimenti è inutile non serve a nessuno e con quello che stiamo vedendo io oserei dire che il vizietto da parte dell'essere umano di non imparare nulla dal passato purtroppo è sempre più attuale però se non si può intervenire su eventi in scala planetaria cercate almeno di intervenire su quella che è la vostra vita personale vi ringrazio dell'attenzione una buona giornata